Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo appuntamento con gli dei di EngineSoft. Io sono Alessandro Mellone e in questo webinar affronteremo il tema dell'approccio metodologico multiscala applicato ai materiali compositi. Quindi vedremo come le analisi di omogenizzazione e localizzazione ci aiutano nella progettazione di componenti in materiale composito. Brevemente l'agenda del webinar, una prima presentazione, mia presentazione, un'introduzione al webinar stesso. Scenderemo poi nel dettaglio di quella che è l'analisi multiscala, andando nel dettaglio a vedere cos'è l'analisi di omogenizzazione e successivamente l'analisi di localizzazione. Vedremo anche brevemente quali sono i principali settori industriali di applicazione di tale approccio metodologico e chi è l'utente dell'analisi multiscala. Giusto una slide con alcuni esempi di applicazioni di analisi multiscala per poi entrare nel dettaglio dell'esempio applicativo con un T-joint in materiale composito. Concluderemo poi la sessione con una semplice slide di conclusioni. Mi presento, sono Alessandro Mellone, sono un ingegnere aerospaziale e lavoro in Enginesoft dal 2017. Mi sono occupato principalmente nei primi anni di analisi sui materiali compositi, utilizzando la suite ANSYS Mechanical e ANSYS Composite Prepost, per poi passare nel team di iniziative strategiche di Enginesoft a inizio del 2021 e sempre in Enginesoft è rivestito anche il ruolo di product manager per il tool di simulazione multiscala multiscale.sim. Il perché di questo webinar? Come ben sappiamo i materiali compositi vengono largamente utilizzati per le loro proprietà, soprattutto per le loro proprietà specifiche, quindi elevate proprietà meccaniche con bassa densità, ma tuttavia presentano delle difficoltà non solo dal punto di vista manufatturiero, ma anche dalla loro caratterizzazione meccanica. Come ben sappiamo i materiali compositi necessitano di prove di caratterizzazione ben più lunghe di quelle che possono essere le prove di caratterizzazione dei materiali metallici. Quindi l'analisi multiscala in questo contesto riveste un ruolo fondamentale perché è uno strumento a disposizione degli ingegneri e dei progettisti per facilitare lo studio di tali materiali, rendendo quindi semplice e veloce il processo di simulazione. Quindi l'analisi multiscala mi consente di ottenere le proprietà meccaniche del mio materiale, nota la microstruttura, e utilizzarla poi nell'analisi di dettaglio con gli strumenti FEM. Cos'è l'analisi multiscala quindi? L'analisi multiscala è un approccio che consente di osservare una microstruttura e calcolarne le proprietà meccaniche e questa è l'analisi di omogenizzazione che consente quindi tramite il numerical material testing di estrarre quelle che possono essere le informazioni caratteristiche del mio materiale e utilizzare poi queste informazioni in un'analisi FEM o CAE generica per vedere come il mio materiale si comporta sull'oggetto di studio. E questa quindi è l'analisi di omogenizzazione, quindi lo studio della microstruttura che mi consente di estrapolare le informazioni sul materiale da utilizzare poi sul mio modello macroscala. Esiste poi il processo inverso che è l'analisi di localizzazione che parte da un'analisi macroscala e consente tramite l'estrazione degli strain nell'intorno della microstruttura di andare a verificare qual è il comportamento della microstruttura stessa che ho utilizzato per calcolare le proprietà meccaniche con il processo di omogenizzazione. Quindi l'approccio multiscala è un approccio chiuso che consente sia il passaggio dalla micro alla macroscala ma anche dalla macroscala alla microscala. In questa slide vediamo qual è il processo di dettaglio dell'analisi di omogenizzazione che ci consente, ripeto, quindi di estrarre le proprietà ortodrofo-omogenee a partire da una microstruttura eterogenea. Sicuramente ho bisogno di una serie di input per eseguire l'analisi di omogenizzazione e questi sono sicuramente le proprietà materiali delle singole parti costitutive della mia struttura eterogenea ma anche i parametri geometrici che costituiscono la mia microstruttura. Note queste due informazioni principali, costruisco un modello FEM della microstruttura e tramite il numerical material testing vado ad estrarre quelle che possono essere le curve S-Stain. Tramite poi il processo di curve fitting posso estrarre le proprietà materiali equivalenti da applicare poi al modello macroscala. L'analisi di localizzazione invece consente l'osservazione del comportamento della microstruttura date le condizioni di carico nella macrostruttura, quindi come possiamo vedere in questo esempio un provino in materiale composito soggetto a un test di flessione vado a identificare due punti di interesse, il punto 1 e il punto 2 e una volta eseguita l'analisi sulla macrostruttura vado a verificare quello che succede tramite l'analisi di localizzazione nel punto 1 e nel punto 2 e quindi identifico due modi di failure differenti in funzione delle zone del provino quindi nel punto 1 dove è maggiore lo sforzo di trazione o sicuramente possibilità di rottura della fibra mentre nella zona centrale del provino ho il failure della matrice. Dove è possibile applicare l'approccio multiscala? Sicuramente in tutti i settori dove lo studio dei materiali è di fondamentale importanza primi fra tutti l'aerospace, l'automotive e il settore dei trasporti in generale ma l'analisi multiscala trova sempre più spazio in tutti quei settori dove è necessario conoscere la microstruttura delle mie strutture quindi nel settore dell'elettronica per lo studio delle PCB nel settore medicale relativamente alle strutture di tipo Lattis derivanti da Adity Manufacturing e appunto un altro settore il settore dell'Adity Manufacturing ma anche il settore degli articoli sportivi dove sempre più si fa uso di materiali compositi Una volta visti quali sono i settori industriali di applicazione passiamo all'utente dell'analisi multiscala chi è l'utente principale dell'analisi multiscala? Sicuramente può essere il fornitore di materiali che esegue dell'analisi multiscala per calcolare prima di campagne sperimentali le proprietà di una possibile microstruttura e successivamente fornirle anche ai propri clienti lo è l'utilizzatore dei materiali che ha bisogno di conoscere nel dettaglio quali possono essere le prestazioni di un determinato materiale in funzione della sua microstruttura e sicuramente nel settore aeronatico nel settore delle energie rinnovabili e ancora il settore dello sport questi sono settori dove l'analisi multiscala rivesta un ruolo centrale l'altro utente uno degli altri utenti dell'analisi multiscala è sicuramente il progettista il progettista che ha la necessità di semplificare i modelli numerici qui ci sono due esempi abbastanza esplicativi sicuramente il settore dell'attistructure dove è difficoltoso ottenere una mesh per strutture reticolari complesse ma anche nell'esempio a sinistra dove un foglio di metallo con dei microfori risulterebbe quasi impossibile da meshare e quindi con l'analisi multiscala vado a individuare una cella di riferimento del mio materiale con i microfori ne calcolo le sue proprietà e sostituisco la porzione ricca di microfori con un materiale rappresentato omogeneamente ma con caratteristiche ortotrope a livello strutturale passando ora a quali sono le applicazioni con alcuni esempi sicuramente lo sviluppo di nuovi materiali compositi quindi lo sviluppo di nuovi materiali fibrorinforzati oppure lo studio delle prestazioni del mio materiale fibrorinforzato al variare della sezione dei filamenti che lo costituiscono posso anche studiare l'angolo di strand quindi come sono angolati tra di loro i filamenti nel mio materiale fibrorinforzato posso andare a studiare nel dettaglio delle matrici e magari anche delle matrici arricchite con dei filler andando a sfruttare le celle disponibili negli strumenti che consentono di modellare delle strutture con dispersione di filler ma anche posso andare a studiare qual è l'orientazione dei cristalli in dei materiali metallici quindi vado a creare dei volumi infinitesimi descrittivi del mio materiale per andare a individuare le prestazioni del materiale al variare della configurazione dei cristalli al suo interno come dicevo in precedenza sicuramente lo studio delle PCB è di particolare interesse per l'analisi multiscala l'elettronica prende sempre più piede quindi lo sviluppo rapido di schede PCB è sicuramente un terreno dove l'analisi multiscala consente di ottenere un vantaggio competitivo l'altra applicazione dell'analisi multiscala come dicevo in precedenza è la sostituzione dei test sperimentali per la caratterizzazione dei materiali perché consente di ridurre quelli che sono i costi di produzione dei provini e di esecuzione della campagna sperimentale perché posso eseguire innumerevoli test a livello di simulazione ed eventualmente predisporre delle campagne sperimentali con un numero inferiore di provini per validare le mie informazioni meccaniche ricavate con l'analisi multiscala come dicevo in precedenza la riduzione e la complessità dei modelli ne abbiamo visti due esempi in precedenza andando a calcolare poi le proprietà ortotrope del mio modello ridotto e lo studio dei difetti di produzione dei materiali compositi andando a studiare i meccanismi di danneggiamento che possono instaurarsi quando i materiali compositi sono soggetti a condizioni di carico gravose passiamo ora a quello che è l'esempio esplicativo dell'approccio multiscala andremo a vedere i passaggi fondamentali che consentono di illustrare la procedura di analisi multiscala per la determinazione delle proprietà meccaniche dei ply in materiale composito quindi il T-joint è stato modellato utilizzando ANSYS ACP e le proprietà dei ply sono state calcolate utilizzando il software di analisi multiscala multiscale dot sim sviluppato dalla Cybernet vedremo quindi le analisi di omogenizzazione l'analisi del comportamento macroscala del T-joint e successivamente le analisi di localizzazione andando a vedere il comportamento delle microstrutture in alcuni punti selezionati del T-joint quali sono i passaggi fondamentali di tutta questa metodologia sicuramente sono state condotte delle analisi di omogenizzazione in particolare è stato caratterizzato un unidirezionale con percentuale di fibra al 70% e materiale fibra di carbonio con resina epossilica successivamente è stata eseguita un'analisi di omogenizzazione per calcolare le proprietà di un unidirezionale con percentuale di fibra al 50% costituito da fibra di vetro e resina epossilica le informazioni di questa cella elementare sono state poi utilizzate per caratterizzare un tessuto con la percentuale di fibra al 70% sempre fibra di vetro resina epossilica quindi una doppia analisi di omogenizzazione per calcolare le proprietà di un tessuto successivamente è stata eseguita un'analisi strutturale sul T-joint con dei carichi che vedremo in seguito e una volta terminate le analisi macroscala sono stati estratti gli strain in dei punti come dicevo su degli elementi come dicevo in precedenza per eseguire le analisi di localizzazione sulle celle utilizzate per le analisi di omogenizzazione in questa slide vediamo l'intero progetto ANSYS Workbench quindi in un unico progetto ANSYS Workbench sfruttando l'associatività dei workflow all'interno di ANSYS e le potenzialità dello strumento multiscale .sim è possibile avere in un unico progetto la panoramica dello studio del T-joint quindi nella parte alta il setup dell'analisi macroscala al quarto step tre step di analisi di omogenizzazione e l'ultimo step con le sei analisi di localizzazione sulle celle elementari scendiamo ora nel dettaglio delle singole analisi di omogenizzazione e in particolare andiamo a vedere come esse sono state strutturate lo strumento multiscale .sim disponibile quindi per la suite ANSYS ANSYS Workbench consente tramite delle celle template di costruire in modo estremamente rapido la cella descrittiva della microstruttura quindi ho una serie di template vado ad inserire i dati geometrici della microstruttura e calcolo quindi il modello CAD da utilizzare poi nell'analisi FEM a partire poi dagli ingegneri in data della suite ANSYS ma questi dati poi potrebbero essere sostituiti con dei dati di proprietà dell'utilizzatore finale sono stati selezionati i due materiali costitutivi la microstruttura quindi la fibra di carbonio a se stante e i dati relativi alla resina epossidica tendo a precisare che tutte le analisi sono state eseguite in campo lineare sebbene lo strumento multiscale dot sim consenta anche di eseguire delle analisi di tipo non lineare quindi consentono di andare oltre il carico di disnervamento per portare i materiali rottura in questo webinar vediamo semplicemente delle caratterizzazioni elastiche delle celle di riferimento sfruttando quindi poi l'ambiente anzis mechanical con le funzionalità di multiscale dot sim è possibile quindi eseguire la caratterizzazione della cella e ottenere in modo del tutto automatico all'interno dell'ingegnero in data le caratteristiche della mia cella infinitesima in questo caso stiamo vedendo quelle che sono le caratteristiche dell'unidirezionale con 70% di fibra di carbonio e resina epossidica lo stesso passaggio è stato effettuato per caratterizzare l'unidirezionale in fibra di vetro quindi anche qui le potenzialità di multiscale dot sim con i suoi template le informazioni dati materiale prese dall'ingegnero in data di ANSYS e tramite ANSYS Mechanical è stata estratta la caratterizzazione del comportamento elastico della cella successivamente queste informazioni appena estratte sono state utilizzate per calcolare come dicevo in precedenza le proprietà ortotrope di un tessuto al 70% di fibra di fibra di vetro quindi sono state utilizzate le informazioni materiale con comportamento lineare calcolate in precedenza e sempre i dati della resina epossidica da libreria ANSYS all'interno dell'ambiente di simulazione ANSYS Mechanical poi è stata assegnata una direzione preferenziale agli elementi delle fibre costitutive la cella infinitesima in modo da poi poter sfruttare l'ortotropia del materiale calcolato in precedenza e quindi sono state estratte le caratteristiche del comportamento elastico della cella di tessuto col 70% di fibra di vetro qui semplicemente dei valori delle proprietà di bulk dei materiali utilizzati quindi valori standard di riferimento sia per la fibra di carbonio sia per la fibra di vetro sia per la resina ipossidica considerati come materiali a comportamento isotropo e in questa tabella andiamo a vedere quelli che sono i valori principali calcolati nelle varie direzioni per le tre differenti celle ovviamente questi valori sono allineati ai valori standard dei materiali ma tendo a precisare che necessiterebbero di un'analisi più accurata per raggiungere risultati più vicini alla realtà le librerie di ANSYS sono messe a disposizione ma vanno eventualmente caratterizzate e customizzate con le informazioni dell'utente una volta terminata la fase di analisi microscala macroscala quindi l'analisi di omogenizzazione si è passati alla definizione del problema macroscala e quindi sfruttando lo strumento ACP ANSYS composite prepost è stata creata la stratifica sul T-joint all'interno di ACP sono stati portati i materiali costitutivi in aggiunta abbiamo un one comb per incrementare lo spessore del pannello e una resina epossilica da utilizzare nella modellazione solida per il calcolo dei drop off sulla base di questi materiali sono stati poi creati i fabric l'unidirezionale con la fibra di carbonio al 70% il tessuto con la fibra di vetro al 70% e il core con le proprietà dell'onecomb riporto qui le tre macro aree di laminazione sicuramente l'area del pannello con la sua sequenza di laminazione simmetrica costituita da questi materiali la porzione dello stringer del T-joint con una sequenza di laminazione praticamente unidirezionale lungo la direzione del provino e qui riporto nel dettaglio qual è la direzione di riferimento utilizzata per tutte le tre le sequenze di laminazione e successivamente sono state poi applicate delle pelli ulteriori tra stringer e plate per irrigidire l'intera struttura le informazioni di modellazione con la struttura layerizzata di ACP sono state passate come modello solido a un'analisi statica strutturale e al provino sono state applicate una condizione di vincolo con un fixed support nell'estremità posteriore e una forza composta quindi da tre componenti x, y e z sulla sulla faccia anteriore ovviamente è una condizione di carico di vincolo ipotetica non abbiamo un corrispettivo nella realtà ma ci serve semplicemente per capire quello che è il processo di approccio metodologico multiscala terminata la fase di analisi sono stati individuati quattro elementi di riferimento nella mesh come è possibile osservare grazie ad ACP e grazie all'opzione di modellazione analisi ply wise è stato possibile ottenere un elemento per ogni ply della mia stratifica quindi selezionando gli elementi sono in grado di andare a osservare qual è il comportamento del singolo ply a questo punto estraggo le informazioni di strain su questi quattro elementi riportati qui al lato e eseguo le analisi di localizzazione vediamo qui semplicemente nel dettaglio è puramente un'analisi di tipo di tipo grafico quello che è il comportamento delle singole celle all'interno della della microstruttura e in particolare andiamo a vedere cosa succede sulla fibra di carbonio sia sull'elemento B sia sull'elemento C che sono rispettivamente l'elemento B un elemento sul plate e l'elemento C l'ultima pelle di cover sullo stringer come vediamo il comportamento è differente perché ci troviamo in zone differenti dello stringer che rispondono in modo differente alla condizione di carico e tramite la valutazione degli stress sia sulla fibra sia sulla matrice posso andare a fare delle considerazioni relative alla resistenza alla resistenza dei singoli elementi costitutivi della della microscala lo stesso approccio è stato condotto sul sul tessuto quindi rispettivamente il elemento A e l'elemento D sempre plate e stringer e vado a valutare anche qui quelli che sono gli stress sia sulla parte di resina sia sulla parte di di fibra scusate se ricordate bene abbiamo eseguito una doppia omogenizzazione quindi per calcolare le proprietà delle fibre sono state in precedenza calcolate delle proprietà a livello microscopico relative alle fibre del tessuto e anche in questo caso sono stati selezionati degli elementi all'interno della microstruttura tessuto e sulla poi microstruttura unidirezionale col 50% di fibra di vetro utilizzata per caratterizzare i filamenti del tessuto sono state eseguite nell'analisi multiscala andando a verificare anche qui lo stress sia sulla 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 resina sia sulla fibra per concludere quindi vediamo quali sono i vantaggi dell'analisi multiscala sfruttando l'accoppiamento di ANSYS Workbench e multiscale dot sim sicuramente la capacità di determinare le proprietà materiale senza eseguire dei test sperimentali partendo semplicemente dai materiali costitutivi che devono essere caratterizzati e dalla conoscenza della microstruttura che deve essere nota il risparmio di tempi e di costi relativi alle campagne sperimentali quindi se impostato correttamente il problema riesco a ottenere le proprietà meccaniche in modo relativamente semplice la disponibilità immediata di queste proprietà meccaniche calcolate in ambiente FEM quindi posso direttamente utilizzarle all'interno dello stesso progetto Workbench per eseguire dell'analisi macroscala o in generale la contrazione dei tempi di sviluppo prodotto e di analisi FEM grazie all'approccio integrato e i workflow associativi quindi riesco a contrarre i tempi di design e verifica e validazione di un mio componente in materiale composito e ho anche la possibilità di verificare cosa succede nella microstruttura per evitare delle successive criticità infine un aspetto che non abbiamo visto nel dettaglio c'è anche la possibilità di parametrizzare le microstrutture in modo da eseguire delle analisi di sensitività quindi capire cosa comporta una valorazione della microstruttura in termini di prestazioni meccaniche poi del mio materiale per concludere se ci fosse la necessità di approfondire il tema dell'analisi multiscala o le funzionalità dello strumento sono la persona di riferimento in engine soft qui trovate la mia mail potete tranquillamente scrivere in qualsiasi momento e vi fornirò ulteriori dettagli in generale sull'approccio dell'analisi multiscala e le funzionalità dello strumento qualora ci fosse poi la necessità di attivare una trial di un mese è possibile farlo attraverso il modulo di richiesta demo sul nostro sito quindi sul sito engine soft nella sezione delle soluzioni trovate multiscale dot sim sono adesso a vostra disposizione per delle domande qualora ve ne fossero un po' Grazie a tutti.